La mia vita di imprenditore mi ha insegnato quanto sia difficile avere rapporti con una donna. Perciò nel corso della mia vita ho pagato per avere decine di migliaia di prestazioni sessuali e sono orgoglioso di averlo fatto e continuerò a farlo. A me piace, lo sapete, in colminenza. A me piace commettere ogni abuso per me. La mia vita di imprenditore mi ha insegnato quanto sia difficile avere rapporti con una donna. Perciò nel corso della mia vita ho pagato per avere decine di migliaia di prestazioni sessuali e sono orgoglioso di averlo fatto e continuerò a farlo. A me piace, lo sapete, in colminenza. A me piace, lo sapete, in colminenza. A me piace commettere ogni abuso per me. Che cazzo fate? La mia vita di imprenditore mi ha insegnato quanto sia difficile avere rapporti con una donna. Perciò nel corso della mia vita ho pagato per avere decine di migliaia di prestazioni sessuali sessuali e sono orgoglioso di averlo fatto e continuerò a farlo. A me piace, lo sapete, in colminenza. A me piace commettere ogni abuso per me. mai a mi piace commettere ogni abuso. A me piace, lo sapete, in colminenza. A me piace, lo sapete. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti